buongiorno ragazzi ben ritrovati a tutti in un nuovo video finalmente è arrivata la bella stagione che tutti aspettavamo e con lei anche la voglia di rinfrescare e illuminare casa con i colori tipici insomma della primavera i colori pastello ma anche colori che danno proprio luce e freschezza e trasmettono anche tanta tanta serenità all'ambiente recentemente ho acquistato delle nuove federe per cuscini da Juisque che non vedevo l'ora di mettere infatti questa mattina mi sono data un po' le pulizie di primavera mi sono svegliata con questa bellissima giornata e ho aspirato quindi un po' i cuscini e ho cambiato appunto le federe mettendo queste con questi fiorellini super carini super primaverini quando spring is coming qualche giorno fa poi mi è arrivato il tanto atteso pacco da dal filo che con l'arrivo della primavera ha deciso di lanciare una nuovissima collezione dedicata a questa stagione luce e cielo io ho scelto cielo questa bellissima tonalità di azzurro di blu che ha rinfrescato completamente la mia camera da letto con questo colore bellissimo molto molto vivace ma al tempo stesso rilassante e veramente me ne sono innamorata vi avevo già parlato di dal filo questo autunno si tratta della seconda collaborazione io sono felicissima che mi abbiano ricontattato perché come sapete si tratta di una realtà artigianale che porta nelle case l'alta qualità italiana che ci permette proprio di toccare con mano la maestria degli artigiani e quest'anno accoglie la primavera con queste nuove tinte luce e cielo oggi vi mostro appunto il completo lenzuola cielo che è un colore capace di infondere fiducia e armonia grazie al potere rilassante del blu dell'azzurro insomma questa tonalità trasmette proprio freschezza e serenità e aiuta a regolare il rapporto sonno sveglia il completo è in percalle e ormai sapete quanto sia magnifico perché è in grado di regolare la temperatura del corpo mentre si dorme e da quando io ci dormo non riesco più a farne a meno ragazze sono certa che avrà lo stesso effetto anche su di voi con luce e cielo non solo farete entrare la primavera in camera ma verrete anche coccolati dall'alta qualità artigianale italiana io fossi in voi correrei sul loro sito a scegliere la vostra versione preferita anche perché ho una sorpresa per voi amiche con il mio codice alessandra dal filo potrete ricevere uno scontro sulle nuove tinte e sui loro best seller ringrazio ancora tantissimo dal filo per questo splendido regalo ciao ragazzi buongiorno a tutti ben ritrovati in un nuovo video come state allora dopo una breve pausa della settimana scorsa perché poi alla fine weekend scorso era pasqua e siamo andati via due giorni siamo andati appunto a rappallo abbiamo fatto sabato da sabato mattina a domenica pomeriggio perché poi la effettivamente non era al massimo ma siamo riusciti comunque a farci un giorno e mezzo barra due di mare alla fine era brutto però non bruttissimo ci ha piovuto un pochino ma pensavamo peggio quindi siamo riusciti a goderci un pochino il mare non c'era freddo si stava bene abbiamo mangiato anche a pasqua e a pasqua e praticamente a per chi conosce san michele di pagana e in quella spiaggetta alla fine del paese a questo chioschetto proprio vicino a una sorta di raggiungo di boschetto in cui insomma ci hanno servito del pesce di spaghetti insomma tutto molto buono e anche sapato sera siamo andati a appunto a mangiare fuori tra l'altro abbiamo anche festeggiato perché sono passata tempo indeterminato quindi sono contentissima perché dopo sei mesi insomma arrivata anche questa bella notizia quindi abbiamo festeggiato anche questo e niente quindi invece questo weekend siamo al 6 di aprile sabato io stamattina mi sono dedicata proprio ai video perché ho voluto recuperare e rifare fare appunto video parte per dal filo e sia per instagram sia per youtube e quindi ho girato un po di contenuti ho girato burrila anche settimana scorsa però non l'ho ancora pubblicato quindi insomma ci sono un po di contenuti tema casa che usciranno in questi in questo periodo poi con l'arrivo della primavera io non so voi ma ho una voglia pazza di mettere a posto di riordinare a pulire vedere proprio la casa bella in ordine bella pulita infatti ieri pomeriggio sono arrivata a casa dal lavoro mi sono fatta una bella doccia e ho e ho pulito bene casa vi dicevo che ieri pomeriggio sono tornata a casa dal lavoro e poi mi sono messa a pulire un po tutta la casetta l'ho messa bella in ordine ho spostato anche due cosine da sopra la scarpiera perché ho voluto cambiare un po diciamo le decorazioni che c'erano sopra quindi poi ve le faccio vedere molto 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 carina molto più pratica perché noi tante volte soprattutto giovanni quella scarpiera sopra l'utilizzo un po come svuota tasca quindi ho messo un bel cestino che era altrimenti nello sgabuzzino chiuso che non lo vedeva nessuno invece lì è molto più più bello molto più in vista allora oggi è una giornata splendida anche oggi e dovrebbe venire forse su un po di vento ma io spero di no perché da pasqua che c'è questo vento pazzesco che proprio rompe le scatole lunedì di pasquetta era invivibile veramente fuori non si poteva star fuori dal vento che c'era e tutta settimana è andato è venuto un pochino quindi da veramente fastidio perché c'è non so il vento così forte a me è odioso e anche perché c'è anche una bella temperatura ma con quel vento lì purtroppo poi insomma bisogna coprirsi e io poi settimana scorsa praticamente lunedì mattina non sono non sono stata molto bene da una settimana che insomma mi sto un po più curando e per fortuna sto decisamente meglio domenica lunedì che abbiamo fatto la pasquetta dai nostri amici abbiamo mangiato tanto io non ho mangiato assolutamente carne perché non ne avevo voglia e ho avuto tutto il giorno la sensazione della febbre del dolore muscoli dolore proprio in generale fastidio e pensavo fosse dato dal vento no che c'era stato che probabilmente era anche quello però poi lunedì mattina mi sentivo uguale allora mi sono presa una tachipirina prima di andare a letto una tachipirina al mattino del martedì perché al lavoro ero a pezzi e basta quindi adesso io mi sa che mi metterò di là un pochino nel letto a guardare qualche video e tra l'altro volevo farvi vedere due cosine che ho preso l'altro giorno al cadiz sono venuti i miei con mia mamma sono andata a fare un giro perché prima sono passata dalla dottoressa e poi siamo andate a fare un diretto proprio qua in centro allora dunque vi faccio vedere praticamente l'amorbidente della vernel che ho preso che ho al momento perché pensavo di averne ancora in realtà abbiamo le perle ma me le dimentico non so perché le faccio le faccio star lì e mi dimentico di usarle fantastica sono allora ho preso il vernel questo qua maldive voglia di maldive ragazze è un qualcosa di buonissimo volevo farvelo vedere perché non so se l'avete mai provato io di solito prendo ruggiata di bosco che è quello invece più sul verde e che lui è il mio preferito ruggiata di bosco però ho provato questo e devo dire che anche lui è fantastico ha una profumazione che si sente per tutta casa praticamente cioè adesso parte qua in cucina ma se io vado già in sala sento il profumo dei panni che sono stesi perché ho steso praticamente quasi tutto fuori perché ovviamente adesso c'è caldo però i restanti li ho messi in cameretta e già soltanto quei pochi che ho lasciato lì c'è un profumo pazzesco e questo qua è il vernel voglia di maldive ed è buonissimo io ragazzi mi trovo troppo bene con la vernel secondo me cioè per me è il migliore migliore amorbidente che ci sia poi sono andata a comprare praticamente una nuova ricarica una nuova come si dice un nuovo disfusore per le ricariche ero week perché casino perché io avevo questo qua no che è effettivamente qualche anno credo di averlo non so non sono non sono tantissimi gli anni però evidentemente qualche anno e niente non c'è più verso praticamente di farlo andare nel senso che a quella specie di linguettina rossa che si dovrebbe abbassare e premere in questo modo il la ricarica lo spray praticamente che dovrebbe fare uscire soltanto che non ha più la potenza c'è un abbastanza forza per spingere a fondo il il diciamo come si chiama questa cosa di plastica che poi fa uscire la fragranza quindi praticamente ho due ricariche ero week che sinceramente costano quanto questo quindi ho comprato uno nuovo direttamente anche perché questo qua io mi trovo molto bene perché va 24 ore l'altro che ho in bagno invece va otto ore e poi si ferma va in stand by che forse si risparmierebbe anche il prodotto però faccio questo qua nel bagno di giovanni preferisco insomma mi ero abituato ormai con questo quindi ho praticamente comprato questo qua nuovo che è fatto diverso infatti adesso volevo aprirlo con voi ed è l'essential oils e io ho un'altra ricarica che è in lavanderia ragazze era nel cestone del bagno pensavo fosse nelle ricariche invece no io ho questa qua che è quella ancora nuova magno alle orchidea che è buonissima e poi quella invece ancora che avevo nella vecchia nel vecchio diffusore è questa qua i fiori tropicali che anch'essa è buonissima io amo ero week fantastica come profumazioni veramente sono una più buona dell'altra allora adesso andiamo ad aprirlo e perché secondo me in questa qua c'è già un'altra ricarica quindi l'ho pagata bo 9 euro però devo dire che sì c'è anche una fila ragazze non ho mai visto pile già in dotazione nei in questi così qua allora come si apre qua per mettere la pila perfetto a ecco qua c'è la intensità che si regola quindi qua adesso a zero però per se io volessi sostituire proprio la la ricarica com'è che faccio ad aprirlo ok ragazze c'è questa qua praticamente che se io volessi sostituire ok sì praticamente più c'è anche già il verso in cui si spruzza questa qua è gelsomino mi pare presia bianca gelsomino sì e adesso la andiamo subito a provare insieme ok allora sì adesso vado ad accenderla mettiamola sull'uno perché è più che sufficiente andiamo dovrebbe essere dopo 15 secondi ragazze ce l'abbiamo fatta era fissato male ovviamente ho fatto una bella un bel disastro che mi è caduto tutto però comunque profumo buonissimo adesso in realtà andrei a utilizzare quello che ho avanzato che così almeno effettivamente lo termino questo qua e lo metto in bagno e basta mettiamo figuracce vediamo un po se se adesso va ok immaginate se arrivava allora ragazzi come vi dicevo qua in corridoio sono andata a cambiare un pochino le cosine che c'erano sopra alla scarpiera perché c'era un vassoietto con un vaso di vetro boh che non mi diceva niente e li ho messi nello sgabuzzino e sono andata a mettere qua sopra questo vaso blu che era in cameretta quindi sul mobile questo qua e come ho soltanto che boh io ragazze la cameretta non riesco tanto da arredarla troppo con troppe decorazioni perché sinceramente la utilizziamo proprio come camera di di servizio no per stendere i panni io la uso prettamente per vestirmi per mettermi le scarpe e per dare da mangiare alle gatte cioè basta non si usa per altro quindi ho preferito mettere questo vaso che è molto molto bello qui con l'ortensia questa qua che mi ha dato la mamma di giovanni e il cestino che c'era nello sgabuzzino che ho deciso di metterlo qua perché così dato che prima qua su quel vassoio giovanni posava sempre le chiavi l'orologo eccetera adesso praticamente mette tutto qua dentro qua ci sono anche delle chiavi così almeno rimane più tutto nascosto lì dentro però a portata di mano e almeno che c'è e mi piace anche proprio come sta il cestino vicino anche all'ortensia perché hanno tutte e due lo stesso colore casualmente perché essendo secca insomma sul giallo allora lì abbiamo il piumone invernale che dobbiamo portare in lavanderia e sopra c'è un sacchettino invece di zara con dei jeans che ha preso giovanni un paio di settimane fa e che deve cambiare sinceramente credo che abbia un mese però non sono sicura adesso poi al massimo se non riesce a cambiare niente se li terrà e io ho fatto merenda e adesso sono quasi le 4 meno un quarto più o meno volevo andarmi a cambiare a preparare fra poco perché volevo andare a fare un giro con la bici come vi avevo detto mi sa non mi ricordo più e fuori una bellissima giornata vedete mio ragazzo e questo cipressino purtroppo ormai sta morendo non so che cosa gli sia successo ormai è già da un anno che è così è sempre più rosso e niente fra poco mi sa che lo dovremo lo dovremo salutare povero mi dispiace tanto perché da qualche anno che ce l'ho e forse da quando siamo in questa casa però niente ha preso si vede qualche malattia qualche cosa per cui è diventato tutto rosso se sapete che cosa può avere scrivetemelo io avevo letto un parassita un qualche cosa però non mi ricordo più il nome esattamente comunque a parte ciò vedete che bella giornata che c'è io veramente ho voglia proprio di andare a fare un bel giro in bici e tra l'altro e tra l'altro aspettate che mi rimetto un po' più in ordine perché io quando sto in casa sto sempre con la coda Giovanni voleva praticamente regalarmi una bici e oggi pomeriggio volevamo andarla a prendere allora io non ce l'ho avevo quando ero ragazzina al mare le mountain bike ma ovviamente volevo una bici da città perché noi appunto abitiamo in centro e abbiamo visto un paio di settimane fa una bici alla Decathlon molto molto carina color azzurro Tiffany e poi un'altra lì perché però costava un po' di cioè costava no in realtà sì ce ne erano due una più costosa una un po' meno costosa e niente però quella della Decathlon in effetti è forse quella migliore e oggi magari andiamo a prenderla dopo che facciamo il giro in bici adesso vediamo quando perché non volevo uscire tardissimo e quindi oggi andremo a fare un salto lì tra l'altro mi stanno mi si stanno allungando tantissimo i capelli non so se avete notato e rispetto alle altre volte questa volta mi sembrano molto più belle le punte anche se ovviamente io ho i capelli scalati quindi a vederli così sembrano più sottili più sfibrati in realtà vi devo dire che sono sono cioè sono sono belli infatti sabato prossimo vado dalla parrucchiera e non voglio assolutamente tagliare devo rifare il colore perché come potete vedere è scurissimo qua devo assolutamente riprenderli però insomma mi piacciono anche così non sono male come colore però volevo schiarirle un pochino perché sinceramente mi sono mi sono un po' stufata di averli così scuri e ok io mi vado a preparare eccoci allora ragazze siamo sono le sette e mezza stiamo tornando verso casa dei miei che mangiamo da loro stasera e niente abbiamo fatto una bella bicicletta cioè senza esagerare perché io non sono allenata Giovanni invece sì stamattina si è fatto già 60 km con la sua quindi oggi con me ha fatto poco ovviamente perché io non non ero assolutamente preparata infatti già i pochi chilometri che abbiamo fatto sono distrutta però è stato bello poi sarà l'aria aperta così c'è proprio questa sensazione di libertà che è bellissimo sicuramente andare in bici è bellissimo e infatti siamo andati alla Decathlon perché volevo prendere cioè voleva prendermi la bici soltanto che purtroppo sia lì sia lì per i modelli che insomma un pochino più city che volevo io anche un po' carine non ce n'era una della mia misura cioè io non sono alta e quindi quella che pensavo di prendere alla Decathlon che era molto carina era una duro Tiffany anche scontata a un buon prezzo purtroppo era troppo alta quindi io ci toccavo proprio con le punte sinceramente di prenderla che poi magari non ci tocco bene cioè devo essere comoda magari prendiamo quella che ho usato oggi che è quella di mia mamma che ha un po' di anni però è una mountain bike non è una city e magari quella per il momento posso provare a vedere se la uso se non la uso come prendo il ritmo insomma però mi è dispiaciuto perché quella lì era carina quella lì azzurra però vabbè pazienza insomma tanto adesso voglio essere sicura di usarla prima di tutto perché a fare spendere dei soldi e poi magari usarla poco così mi dispiace quindi magari quella lì proprio con me anche prova la posso usare per un po' di tempo poi vediamo al massimo ragazze siamo a domenica io ieri sera poi mi sono dimenticata di salutarvi perché poi siamo arrivati tra una roba e l'altra io ero stanchissima che con la bicicletta che abbiamo fatto tutti e due eravamo belli belli cotti quindi niente io vi saluto grazie per essere state ancora una volta con me vi mando un bacione grande ciao